La pressione ce l'abbiamo sempre, ogni mattina che ci svegliamo ci c'è sempre, per cui quello non è una cosa che viene adesso perché magari ci devono essere un momento sicuramente delicato. Sappiamo che in questo sport, in questo mondo e in questo paese vi è dato sbagliare, vi è dato perdere, domenica per domenica e sicuramente noi diciamo che abbiamo esaurito le possibilità di sbagliare, anche perché l'abbiamo dimostrato e sappiamo che abbiamo di qualità e a tratti l'abbiamo messo sul campo e a tratti si vede, però dove non si vede sono i risultati e domenica sicuramente è la partita della svolta, perché bisogna dare una scossa, ma innanzitutto a noi stessi, perché siamo i primi a soffrire, siamo i primi che sappiamo che così non si può andare avanti e sappiamo che noi non siamo quelli che rispecchia la classifica. L'importante è che quella convinzione che sto dimostrando adesso io nei nostri mezzi ce l'abbiamo tutti, ce l'ha dal primo a quell'ultimo a tutti, ce l'ha dall'allenatore e c'è la società, quello che sta poi intorno e quello non ci interessa, perché se le cose vanno bene, vanno bene per colpa nostra, tra virgolette colpa nostra, se le cose vanno male, vanno male per colpa nostra. Ci andiamo noi tutti insieme dal primo fino all'ultimo nelle cose negative e lì ci andremo anche tutti quanti insieme, come l'anno scorso la squadra andava perché andava, quest'anno la squadra è iniziata in questa maniera tutti insieme e ripeto, la cosa più importante comunque è di sottolineare quello che ognuno di noi che lavora, che società, crede in quello che fa e crede che ne usciremo e domenica è sicuramente la possibilità, è un dovere innanzitutto dove poi dobbiamo dare questa svolta perché dopo diventerebbe davvero pericoloso e con la possibilità non ci vuole nemmeno pensare né parlarne. Quando ti mancano in ruoli chiavi, diciamo, due o tre giocatori di esperienza, è ovvio che quello che risenti lo risenti in campo, però questo non deve essere una scusa perché la squadra comunque è stata costruita sapendo e conoscendo le difficoltà che potevamo incontrare durante la stagione. In questa squadra, in questa società comunque lavorano delle persone competenti, gente che conosce e sa di calcio, sono gli ultimi arrivati e per cui, ripeto, abbiamo tutti la fiducia nei nostri mezzi, ecco partendo dalla dirigenza e tra di noi lo stesso senza dubbio, però ripeto, tempo è esaurito, domenica bisogna vincere.